risorto il monte ormond non è un po freddo che è tutto con la neve non ha inseguitore letale non c'è stravolgimento se hai cercato la ratto build ma tanto contro di lui non serve la ratto build si è la legione si è la legione l'unico contro cui la ratto build è del tutto inutile si è asics progettiamo su twitch così nessuno possa aspettare niente non sono convinto di questa affermazione è meglio se ti allontani no allontanati allontanati no non è qui è dall'altra parte del pianeta ok qua si vedo ancora furfi intanto vedo no non è vero ciò tano che palle è ovvio una legione eh lo so ma che palle è lo stesso ma sei andato nella toolbox hai una toolbox no no sta arrivando ma non dovrebbe avere il potere si che ha il potere si mi allontano c'ha le pillole di merda no c'ha le ninna nanna pillole mi sa non poteva averlo ancora completamente ah non puoi urlare eh non urlo no perfetto che lo sto rompendo adesso lo rompiamo è top nice ah l'ho già trovato subito eh lo ho già due perk rivelati poi che organizziamo in galera un bel party che farà la storia ma no ma tu l'hai già fatto di rapire devi organizzare una rapina nice forse Gesù credo in te io ci provo ma sta giocando la ninna nanna credo di sì ho visto che il potere gli ha durato davvero un fottio di tempo quindi e New York c'è vicino no vado io vado io eh però è vicino qua no credo che sia in main se vi interessa quella è il jam che stavano facendo pur finito che l'hai vista da questo lato di qua per caso di qua ok vado io a farlo tu magari fai il jam lì dietro se riesci che sei così nell'angolo nascosto io finisco questo jam ok 3 ok inizio questo jam qua inizio il jam di fianco main praticamente fai tu sei brutale questo si è il secondo game ball poi andiamo a kill è qui da me è qui da me è qui da me calcio al gen cerco di non tu brutale sei ancora lì in quell'angolino lì ecco il gen no no furfi dico ok qui non ti ci porto ho detto brutale ho sbagliato scusa mi ha mollato mi ha mollato viene main ma avete finito un altro gen si è bloccato questo noi stiamo facendo i due gen dalla parte opposta ok lui viene a shock si New York l'ho fatto il tuo gen no non dovevi uscire dovevi rimanere non era col potere New York adesso me lo beccherò che arriva sicuramente per me sì sì è per me è per me ok sono riuscito a togliergli il potere mi sono beccato l'M1 però lei non sa che si è tolto il potere mi sa se flashate la legend toglie il potere fanfuck vabbè è uno stun no no non è proprio uno stun vabbè serve che qualcuno di voi sicuri ok perfetto ottimo ottimo quello di me è stato fatto non credo che palle viene per me calcio al gen no viene per te forse non dovevo ripararla che sta un po' sprecato l'ho fatto attivare è dietro di me ancora sì sì è dietro di me sono nell'angolino ok ok vabbè riuscito a fare il save vabbè vabbè viene anche sì sì ci vorriamo adesso adesso manca un gem oggi mi aiuta un po' cerco di mantenere di tenerlo il più possibile ma eh no sono giocata male devo fare il bait devo fare banana serpe vabbè dai il primo hook che mi prendo non è malissimo il germ fuori da main dovrebbe essere quasi completo al 50 però vedo che anche quello in main regredito abbastanza adesso quello dentro main è il più avanzato ok arriva verso giang che stavo facendo io entra in main ciao little buonasera benvenuto torna qua torna al look torna al look attenti usarà sicuramente il potere probabilmente ovviamente non mandarti a me è andati fino al 99 forse aspetta che finisca il potere se ti devi mandare lo sto portando verso shock in caso dovesse venire per me penso di sì sì viene per me no ma c'è anche new york qua vicino no 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 pericolo mi sa ok è finito il potere ok vedete quello mid più del 50 sì 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 ok arrivo vieni fuori non curarti no sto tornando sto tornando sto tornando attenzione lo calcio sicuramente è fuori che calcio quel è il terzo gen raga che ci manca vieni qua vieni qua ah ma in determinazione sì però c'è new york che io sono ferito non so dove sia è il gen cesame vai a riprenderlo vai a riprendertelo john john è finito è finito che ho giudito sì adrena lina ciao sì sì ciao ciao sono partita 200 all'ora lei è ancora lì aprite la porta dall'altra parte se io sono a shock la tengo qua però la porta qua quindi la posso farci molto ok forfi sta già aprendo questa c'è la bambuso e quello è il quarto perché quindi eh fuck l'avevo persa non mi ha visto è arrivato dalla porta non ti ha visto non so come non mi abbia visto giuro su qualsiasi cosa eh no secondo me ha visto new york ha detto ma andiamo per quell'altro ha la casetta piccola e ha aperto ha il potere attivo eh ma non com'è ne che vuoi verso l'uscita adesso arriva ho tolto il potere tanto non ci arriva madonna la live in 360 ti blocca comunque come è possibile vai aprite la porta aprite la porta aprite la porta no poi sono già morti mi fregava mi fregava perché si vedi che aveva le pillole di merda riusciva sempre a prendermi un millimetro prima che passavo l'esercito dei t-bag l'esercito dei t-bag